Si è spento all'ospedale di Cremona dopo una breve malattia che non gli ha lasciato scampo Giuseppe Tabacco, 58 anni. Artista, scenografo, nato a Catania ma residente a Castelvetro Piacentino e fortemente legato a Cremona, città in cui ha esposto recentemente le sue opere. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Brera, dove si è specializzato in scenografia, Tabacco, artista poliedrico, ha alternato la sua attività di scenografo per varie produzioni nei network privati con la sua attività pittorica che lo ha portato sulla scena internazionale già dagli anni Ottanta. Il suo percorso parallelo tra pittura e scenografia ha influenzato la sua produzione, arricchita da nuove competenze artistiche come la fotografia e la grafica. Ha esposto in diverse mostre sia in Italia che all'estero, negli Stati Uniti e nelle maggiori capitali europee. A Cremona ne abbiamo ammirato le opere alla Galleria Al Triangolo con la mostra Origine, curata da Francesco Mutti e allestita nel gennaio dello scorso anno, esposizione che segnò l'inizio del nuovo ciclo dello spazio espositivo, oggi curato da Leonardo Caldonazzo. Una mostra che ebbe anche un grande successo a New York. Ma il suo legame con la città di Cremona proseguì anche nei mesi successivi, quando curò l'allestimento della mostra del Museo del Violino Soliloqui. Chi lo ha conosciuto ne parla come un artista umile, dai modi garbati, molto disponibile, rimasto legato alla Galleria Al Triangolo, di cui era divenuto punto di riferimento anche in occasione dei vari vernissage. E proprio il Triangolo sta pensando ad un doveroso tributo, ricordandolo in occasione dell'iniziativa virtuale Lo Spazio Vuoto.